Un 2 giugno speciale per questa delegazione a Retina che insomma arriva con i suoi prodotti migliori, secondo me anche con la sua umanità ad Amatrice. Sì, cultura nazionale non ha interrotto il filo che lega Arezzo ad Amatrice, prima a dicembre, poi a marzo e ora questa grande iniziativa in un'ora da simbolica, che è il 2 giugno, quindi festa della Repubblica, Arezzo si trasferirà ad Amatrice con i migliorimenti, con i migliori prodotti dell'Aretino, con un'associazione che ha fatto da filo conduttore e ha raggruppato intorno a sé un progetto grandissimo. Andremo giù, serviremo 250 persone in maniera totalmente gratuita, le daremo la musica, faremo delle bellissime cose e questo credo sia un bellissimo segnale. Arezzo ancora una volta non ha reciso il legame con Amatrice e continuerà a non farlo, aiuteremo finché sarà possibile le popolazioni di Amatrice, questo è il nostro obiettivo. Noi l'avevamo promessa questa cosa quando era venuto il sindaco di Amatrice, l'amministrazione comunale di Amatrice qui ad Arezzo e abbiamo detto che l'avremmo fatto volentieri, appena siamo stati contattati abbiamo risposto presente immediatamente perché col diretti ci sarà, col diretti ci sarà in modo importante perché il 90% dei prodotti che verranno degustati durante la giornata vengono forniti dalle nostre imprese agricole aderenti a Campagna Amica, è una parte di Arezzo che si muove lì, è una parte delle nostre produzioni e lanceremo anche, lo posso già dire, l'idea di far venire da Amatrice delle persone qua da noi a far visitare le nostre imprese, a far vedere coloro che hanno fatto solidarietà per una giornata da Amatrice. Io ho raccolto la provocazione dei chef, la Maria Luisa mi ha detto se ero capace a fare il peposo, allora ho detto vabbè vediamo. Comunque a parte gli scherzi abbiamo raccolto questa chianina, noi macellai, io mi sono preso un po' alla briga di prepararlo, di cucinarlo e ben contento di partecipare tutti insieme a quest'atto di solidarietà che ormai ci distingue anche Arezzo, credo che abbia fatto molto sotto questo aspetto e quindi siamo orgogliosi e io quello che dico è che è bello fare il sociale, ma è bello unire le categorie perché valorizziamo così veramente la città, i nostri prodotti e le nostre attività, credo che sia molto importante continuare in questo senso. Quale sarà il contributo dei piccoli chef? Il contributo dei piccoli chef sarà l'educazione alla prevenzione soprattutto per i nostri bambini che hanno mandato comunque dei messaggi e delle cosine, dei regalini per i bambini di Amatrice e per i bambini di Amatrice vorremmo comunque contribuire a fare l'educazione alimentare e farli divertire in maniera spensierata con i prodotti del nostro territorio, quindi faremo dei biscotti tricolori per l'occasione del 2 giugno e della frutta e della verdura decorata per poter poi degustarla insieme a loro. Lei che farà insomma questo 2 giugno? Che fa? Canta? Balla? Che fa? Io spero di allettare la giornata facendo cantare tutti, in modo tale che, visto le problematiche che esistono nella zona purtroppo, per la gente che ancora c'è, penso di fargli passare i doveri di spensieratezza, di allegria e di fargli dimenticare per un po' tutti i problemi che ci sono.